Siamo alla Total Air di Menaggio, di Menaggio, perché abbiamo cannato, abbiamo fatto le gallerie e Menaggio non l'abbiamo beccato, quindi Zio Severa qua alla Total Aspettato. Il rumore non è dei migliori, però ti ha portato giù a Menaggio, ascoltami, da dove cavolo eravamo, su San Lucio? Sì, ci sono sì, a scendere ci sono sì, bene, allora il suo servizio l'ha fatto, adesso deve per forza dare spazio a un altro mezzo come si deve, questo qua rimane in archivio e guai a chi lo tocca. Aveva qui il ferro e l'avevo già smontato. Sì, ti ha smontato anche il cambite. No, l'ha smontato tutto il tempo smontato. Vabbè, comunque a casa lo portiamo, in un modo o nell'altro prima di notte arriviamo, come sempre. Tutte le volte che andiamo dai Laghe non c'è verso, non torniamo di notte, comunque in qualsiasi caso, per un motivo o per quell'altro. A posto, caricato l'abbiamo caricato, a casa arriva.